Fiore, fior di vaniglia, il tempo passa e nessuno mi si piglia, si sposano tutte quante e a me mi tocca di aspettare il Dante. E' curiosa la vita nel Medioevo, che poi il Medioevo lo dite voi, io dico il 1284, poi ve lo chiamerete come vi pare, l'epoca gli si dà sempre il nome dopo, le dittature ad esempio ne parlano sempre male tutti dopo, intanto tutti se li puppano. Ma è meglio che non parli di politica, ci si mette solo nei guai, Canappione le ne stanno capitando di tutti i colori con i bianchi, i neri, i guelfi, i ghibellini e così via. Chi è Canappione? Scusate, io la Lighieri lo chiamo così. E la mia mamma mi dice sempre, non ti aggiardare, le ho un grande poeta importante, ho capito, è grande e importante e c'ha pure il naso, c'ha un becco pare una poiana, pare una caffettiera, anche se non l'hanno ancora inventata. Insomma, lui fa il poeta, ma si incazza e inveisce con tutti quanti e mette tutti all'inferno e ce l'ha con Pisa e con Arezzo e con i papi, gli arcivescovi, prima o poi lo sbattono fuori dal palinzesto a legnate. Mi dispiacerebbe? E io lo dico a voi in gran segreto, io a quello lì lo sopporto. Ci si è conosciuti la prima volta, io avevo otto anni, lui nove, e mica mi ha detto, dai si gioca insieme, ti regalo un gelato, no! E ci ha scritto dieci poesie ed un mila versi, il piccino. E' timido, mi dicono, ma tu devi avere pazienza, perché lui si dedicherà al capolavoro della letteratura italiana, ci renderà famosa e sai quante vorrebbero essere cantate da lui! E ho capito, ma io sono una donna, mica una serenata! Mica posso aspettare di essere angelicata e cantata e intanto zitta e buona! A medioevo, a 19 anni, già se ne ta' da zitelle, a 25 zitelle carampane, o ottisiche, o magari ti capita una disgrazia come la Giulietta, tac, secca a 15 anni, o come l'Ofelia! No! Oltretutto, bello un è! Ecco, mi guarda a 20 metri di distanza con questo nasone che si gratta e sospira e si gratta al becco, ma mai, mai una volta che si avvicinasse! Ovviamente, piuttosto, tantino mio, fammi, e che ne so, un regalino, un anellino, una gemmola, e vabbè, non si può andare al cinema, si va a vedere insieme la fiera dell'Arno! Non è timido, non è un poeta, non ho più pazienza, ti dedicherai sui versi, è una bella fava! Già me ne ha scritto uno diverso che ve lo raccomando! Tanto gentile e tanto onesta pare! Ora, certo che il letterato lo capisce che pare sta per appare, ma quelli del Borgo San Jacopo, quando passo, io li sento quello che dicono! Oh, guarda, c'è la bea, la bea Fortunari! Tanto gentile e tanto onesta pare! Ecco, bel servizio mi ha fatto la Pogliana Camappiona! E poi sono dei belli ipocriti, eh, questi poeti, ah sì, perché se ne scelgono una da angelicare, e poi tutti a trombare in giro, tutti su al bordello della Mara a Prato, e poi, sai che versi, come i politici vostri, viva i valori cristiani, viva la famiglia, sì, 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 e poi tutti in giro a Troia, anche loro, sì, io invece tanto gentile e onesta, devo parere! Devo camminare così, a occhi bassi, così, mi sono imparata a memoria tutte le merde di cane, la casa mia, piazza Santa Maria Novella, però ho imparato a camminare così, piano piano, occhi bassi, poi a un certo punto sospiro e vedo la Madonnina, le alte rose, il paradiso, e poi risquincio, butto l'occhio e guardo i ragazzi, e vedo il Battistone, sì, il giocatore di calcio, quello fiorentino, sì, che adesso è un gioco clandestino, ma tra cent'anni lo conosceranno tutti, Battistone un metro e novanta, due spalle così, e c'ha il corpetto viola con tutto il giglio qua, e poi sapete che adesso vanno questi pantaloni neri, tutti attillati, che lasciano intravedere certe abbondanze, sì, certo, e poi uno potrebbe anche imbrogliare, ci si mette, che ne so, un cazzettone, una bottiglia di sidrone, no, 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 ma lui, il Battistone, l'è tutta roba sua, lo so, per certo me l'ha detto una mia amica, perciò o il canappione, la lighieri mi si dichiara, mi fa vedere il 7.40, mi assicura che questa commedia che sta scrivendo avrà un certo successo, e soprattutto mi viene giù di regalo, di gemmula, di collanina, d'anellino, oppure io, una di queste notti, prendo il mantello e vo' via di casa, vo' in Santa Croce, vo' dove si allenano di nascosto ai calciatori, vo' dal Battistone e gli fa, ciao, sono la Beatrice, quella cantata dal Dante, e dai che tra noi ragazzi famosi e voi calciatori c'è un certo feeling, e lui bello, è un po' rozzo e mi dirà, e che l'ha sto feeling? E io gli fa, dai vieni che ti porto sotto il ponte all'armo e te lo fa vedere, e poi sai che versi, altro che tante, l'aretino ci vuole, Che c'è? Non sono angelicata? Non sono seria? Ma chi l'ha detto che devono scegliere loro? Basta col poeta che si sceglie la donna da angelicare, la donna ispiratrice, da oggi i poeti ce li scegli a noi, va bene? Tu a me non mi canti, io mi fa cantare dal De Andrè, anzi no, mi fa cantare dal Battistone, che c'ha tre rime sincere e c'ha il cuore e pure il sidrone. E poi, guarda che luna, guarda stasera come brilla l'arna, sicuramente sarà uno spettacolo divino, e io sono giovane, e bella, e ho voglia di essere libera. Sai che ti dico, io adesso vo via di casa, sì, che magari domani mi fanno sposare il canapione, un altro notabile schiatto al primo parto, sì, vai, vai Beatrice, che la notte è bella e giovane, sì, E d'altronde l'ha scritto lui, no? Tanto gentile, tanto onesta, pare! Fior di prugnola, le mie poesie me le scrivo da sola